E' bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Massimi che ha trovato il gol più fortunato sicuramente da quando è in Italia. Sul cross di Martella ha deviato il pallone consigli ma l'ha deviato sul corpo di Simi. Eccolo qui. La carambola sul corpo del nigeriano. Ed è il raddoppio del crotone. 2-0 dopo 16 minuti di gioco. Grazie per la visione.